Il segreto della serenità interiore è fare tutto con un sano distacco, pur esercitando l'amore e lo stupore per la vita. Osserviamo senza impossessarci di ciò che osserviamo. Ascoltiamo senza lasciarci sedurre dall'interlocutore. Mangiamo sobriamente senza esagerare. Amiamo senza pretendere di essere riamati a tutti i costi. E così per tutte le attività. Siamo grati a Dio ma staccati dal proprio ego. Ringraziamo sempre e cerchiamo di non desiderare troppe cose, perché il desiderio stesso potrebbe essere fonte di infelicità. Grazie. Grazie.